Vediamo come funziona quest'app, quest'app non l'ho mai provata a dirvi la verità Comunque mi sembra... stavo facendo... ok sì sì Mi sembra abbastanza funzionante Ma cosa è spettato è successo? Ha una medicina tipo per vedere che cos'è Va tramite Wikipedia quindi va bene A confronto... questo bene, statistica... Terra... vecina... allora... ma non me la vicina? Cioè devo fare io così? Ah no... ok così... ah ok sì ma... non c'è terra emersa? Eh? No scusatevi non c'è terra emersa? Non c'è terra emersa nella Terra, che strano... quindi io sono nell'app in teoria Per beh... vediamo il sole com'è... non c'è non lo posso fare... ah devo uscire dall'orbita E' bello che poi nell'app c'è... cioè è strana sta cosa... vediamo... cioè è nero per noi l'app Cioè il sole è nero in quest'app quindi... bello... vediamo almeno Giove se... no Saturno... così magari Saturno non ha gli anelli... Secondo me Saturno non ha gli anelli... secondo me è... perché fai... ok qui c'è gli anelli... vediamo... ah andiamo a vedere... intanto sto ancora registrando ok... diciamo che poi non c'è... non puoi fare altro... Ustedà... non c'è l'abbia... Sì abbiamo gli annunci, però devo pagare... ok si... non si può fare altro in quest'app... perfetto... Stelle peniti... se fossi in italiano meglio... bene in italiano mi spiace... deluso... anzi cerchetto è che io sono abbastanza deluso... questi sono diciamo chi... pensavo, mi abbastanza deluso, pensavo che fosse meglio cioè nel senso che cioè, sì no, fa schifo con l'altro ve la sconsiglio Buongiorno a tutti, ecco il TG Series Ok, va bene, basta Buongiorno a tutti, oggi c'è il nuovo TG Series Sto scrivendo, aiuto, aiuto, aiuto Andiamo avanti Volevo solo dare due notizie di questa settimana Uno, la Sirix Frex sta arrivando sulla Terra con tanti materiali che sta arrivando Capito tutto Poi, ieri la NASA, cioè il 20 maggio nasce C'è uno dei dati, ieri, i dati qualche anno fa ma non ci vado Auguri NASA, il ritardo, ma vabbè, il ritardo Ciao fidettici E' finita la prima stagione del video delle app astronomiche spero che non cada la prima light ma vabbè E ci vedremo a un prossimo video però, prima vi chiedo di lasciarmi un like andando su Instagram e lascio il link in descrizione e se vi è piaciuta la serie e volete che la continui lasciate un commento qui sotto e adesso vi dico ciao Ciao